Noi avevamo un nesso 2 che poi si è voluto in B, così sappiamo che ci sono una serie di nominativi in ace per i temi no, tipo magistreis che troviamo nel CIL, oppure troviamo, che ne so, yokesmentum per iumentum, non mi ricordo più in quale epigrafe sta, però non so, sono andata a cercare di epigrafe in epigrafe e ho infarcito, diciamo così, il concetto generale che c'era dentro a questa seconda versione era tutte forme vere ma tutte insieme all'interno di una stessa opinione, quindi niente di inventato ancora, ma tutte quante dentro, e vediamo che effetto fa. Matteo l'ha bollato anche questo come la messa della nonna sbiascicata, diciamo così, come mi ha detto vicino, queste sono cose di cui ti accorgi solo tu Luca, la desinenza ace per i, la desinenza ai per ai, sono minuzie, diciamo così, non mi dai quello che mi serve dal punto di vista percettivo, troppo poco. Al che, io, confesso che è cominciato il momento più difficile nella collaborazione con il regista, nel senso che da studioso, diciamo, l'idea di spingermi, già quello che sembrava tanto, no? Cioè io metto tutti questi archivismi tutti insieme, cioè costruisco una cosa che in qualche modo è un, no, al limite della correttezza filologica, diciamo così, comincio a scantonare nell'invenzione. Però, però serviva qualcosa del genere. Allora, ho passato dei giorni in cui, diciamo così, ho continuato a cercare arcaismi, diciamo spulciando nel volume 1 del CIL, che sarebbe il corpus iscrivizionum latinorum, latinorum. E, però, diciamo, mentre facevo questa cosa mi rendevo conto che il problema non si risolviva così, cioè comunque era troppo poco, comunque era troppo poco. A un certo punto ho avuto una specie di illuminazione, forse è casuale, mi sono trovato tra le mani un libro bellissimo, di un signore che si chiama Alessandro Pausani. Alessandro Pausani è un orientalista sopraffino, uno di quelli che ha scoperto, anche perché qui siamo nella facoltà, diciamo, in cui si fanno le lezioni anche dei studi orientali, quindi diciamo così, praticamente pertinente. Ha scoperto che il primo calendario, per esempio, il primo alfabeto era un calendario astrale, insomma, è un poliglotta di dimensioni, per chi l'ha conosciuto. Pausani parlava dodici lingue, è un uomo di una cultura impressionante. E ha scritto questo libro bellissimo su tutte quante le lingue inventate, ma storia delle lingue inventate. Storia serissima, scritta da una persona serissima, che vanno appunto, il Volopuk, dopo è poi nato l'esperanto, no? È quella più nota, che tutti quanti conoscete, ma ce ne sono tantissime altre. Ci sono una serie di lingue inventate per motivi molto più seri, religiosi, per mascherare messaggi religiosi. Ad esempio, il Balai Balan è una lingua religiosa araba, molto divertente, studiata da un signore che si ha Silvestre de Sassi, che poi era il maestro di Franz Botta, se qualcuno di questo altro esempio di linguistica lo conosce, insomma. Quindi, un libro interessante. E c'è anche la sua lingua, cioè quella che lui si è inventato al fratello. Lui ha chiamato Marcusca. E, diciamo così, diceva, io e mio fratello abbiamo parlato a Marcusca per vent'anni. Quindi è l'unico caso di lingua inventata in cui abbiamo una diacronia linguistica. Abbiamo un'evoluzione di questa lingua inventata. Quindi, diciamo così, una volta che letto questo libro ho capito, ho capito quello che dovevo fare. Io volevo inventare una lingua, o dovevo, non so bene. Però, per carattere, anche per formazione personale, non sono così inventivo. Allora, diciamo così, il gioco è stato, ok, inventiamo una lingua, ma inventiamola e filologia, non ex arbitrio. Cioè, non a caso. Perché non sono capace e perché non mi piace. Inventiamola, massimizzando quello che possiamo fare con gli strumenti della filologia. Quali sono gli strumenti, diciamo così, della filologia? Voi sapete, o se non lo sapete ve lo dico io, che tutte quante le lingue che vanno dallo spagnolo, diciamo così, all'indiano, derivano da una famiglia comune, che si chiama famiglia linguistica europea, che va benissimo. Ci sono una serie di studiosi che sono impegnati dal 1816 a ricostruire questa lingua, da cui tante queste lingue derivano. Io ho fatto il dottorato su questa cosa, e quindi diciamo, vabbè, allora, prendiamo quelli che sono i risultati di quest'opera di ricostruzione, cioè i risultati già saputi, no? Vi dicevo all'inizio, i saperi già saputi, sono abbastanza noti, il 99% dei casi, sono quasi nove. Prendiamoli e usiamo questi per riportare indietro nel tempo il latino. E riportiamoli indietro tanto quanto ci serve per produrre quell'effetto percettivo che vuole Matteo.